Siamo alla rascio finale, ma ancora dei biglietti ci sono, ma la città, devo dire, ha risposto molto bene, con grande sensibilità. Non abbiamo ancora tirato un bilancio preciso, però questi ultimi giorni sono anche quelli cruciali, insomma. D'altra parte i premi sono anche belli, interessanti, dal viaggio in una capitale europea fino addirittura a opere di ceramica come quelle di Lucia Angeloni, a un quadro di Antonella Maranga, poi una litografia di Franco Venanti molto importante messa a disposizione proprio dalla famiglia dei Sant'Antoniale. Quando ci fu prospettata, mi ricordo quasi in concomitanza del 17 gennaio, che è appunto la ricorrenza dei Sant'Antonio Abate, il santo che noi portiamo sul nostro cero, ci viene prospettata l'idea di portare avanti questa iniziativa di questa lotteria e naturalmente con lo spirito che ci contraddistingue, quello di metterci anche a disposizione per quanto concerne anche attività che sono collaterali, diciamo alla famiglia Ceraiola, ma all'interno della comunità abbiamo deciso appunto di portare avanti questa iniziativa della lotteria e credo che questo obiettivo che ci siamo posti, speriamo che poi alla fine, quindi arriveremo al 9 giugno dove tireremo le somme. L'aspetto della socializzazione è estremamente importante perché è anche uno dei capisaldi della legge, per cui siccome le forze di volontariato non sono mai sufficienti abbiamo cercato proprio di creare appunto una rete virtuosa nella città, ci stiamo muovendo su questa linea, è anche la volontà dell'amministrazione comunale ovviamente che è intervenuta in particolare nella persona del sindaco Stirati, ma anche dell'assessore Tasso, proprio per sostenere tutta una serie di iniziative di promozioni che stiamo appunto attuando, per cui dal centro anziani del quale abbiamo già acquisito la disponibilità, fino alle scuole che hanno manifestato la volontà di fare alternanza scuola-lavoro nel canile, ecco si stanno muovendo tutta una serie di soggetti, proprio per riuscire a fare del canile un luogo aperto, diciamo, naturalmente rispettando delle regole, rispettando delle procedure che ovviamente ci devono essere, perché non può essere un luogo aperto a tutti. Sono stati eseguiti fra l'altro dei lavori interni al canile di miglioramento a seguito del fermo amministrativo effettuato dai NAS e quindi sono stati risolti alcuni problemi, alcune criticità che magari invece richiedevano un intervento. Quello che credo sarà importante, ma naturalmente verrà condiviso tutto con la famiglia dei Sant'Antoniari, che è la promotrice della lotteria, ma anche con i soggetti preposti alla proprietà, che è il comune di Gubbio e alla gestione che in questa fase ancora è la comunità montana, ecco insieme a loro verranno decisi gli obiettivi. Però certo l'area di accoglienza, il primo impatto del canile di Ferratelle, va sicuramente, cioè va fatta lì un'azione di restyling, se così possiamo dire, per migliorarla e per appunto favorire, come dicevo, la socializzazione.